Il TAR di Salerno ha stabilito che Coambiente deve dare seguito alla convenzione stipulata con il Coris A4 e da agosto 2013 l'impianto di Casalvelino, così come i 30 addetti allo stesso, sono in carico alla società provinciale con tutti i relativi oneri. Ad affermarlo il commissario liquidatore del Coris A4, Domenico Del Gaudio, che aggiunge è una pronuncia importante che viene a seguito del mio ricorso utile per il futuro dell'impianto di selezione del secco e dei lavoratori che dà ragione al mio operato e avrebbe potuto evitare anche la mobilità a carico degli stessi 30 lavoratori. Se solo il Cambiente avesse tenuto fede alla convenzione, tra un po', sottolinea Del Gaudio, potrò dire di aver compiuto la mia missione in seno al Coris A4 in quanto nel contempo stiamo definendo la questione con la ILSPA con 20 operai ex Coris A4 su 25 che sono già passati in carico alla consociata del consorzio e oggi dovremmo definire per gli altri 5. Ne rimangono quindi su 65 lavoratori Coris A4 complessivi solo 10, gli amministrativi applicati sulla liquidazione per i quali attendo di sapere i comuni che sono ormai titolari del ciclo dei rifiuti. Cosa ne vogliono fare? Non mi resta adesso precisa di verificare le partite attive e passive, per poi potrò dire di aver chiuso con il Coris A4. La sentenza, afferma ancora Del Gaudio, è stata depositata il 3 settembre scorso, ma la comunicazione è giunta ieri in tarda mattinata. Dice che non ci sono giustificazioni, motivi giuridici validi per non dare corso alla conversione stipulata il 31 luglio 2013. È vero anche che l'ambiente è stata bloccata da riferimenti burocratici della provincia che sono assolutamente inqualificabili. Voglio sperare adesso, conclude, che non abbiano il coraggio di appellarsi alla sentenza del Tare, che invece prendono atto di quanto stabilito dal Collegio dei Giudici.